Questa volta a Ziché di Calcio si parla, due, il secondo anno, dedicando un Memorial giocando a palla a volo, palla a volo dove hanno scritto, ci sono state protagoniste le nostre ragazze, le ragazze dei vari rioni. Terzo Castello Ferrovia, secondo Corso Humberto Maracca vince il premio il rione di Roma a Ponte Pogliorelle.